L'albero genealogico. Mio nonno si chiama Franco e mia nonna si chiama Maria. Loro, i miei nonni, hanno avuto due figli, Silvia e Sandro. Silvia si è sposata con Angelo, suo marito. Loro hanno avuto due figli, mia sorella Rosa e me. Mio zio Sandro si è sposato con mia zia Gianna, sua moglie. Loro hanno fatto due figli, i miei cugini, mia cugina Elena e mio cugino Daniele. Mia cugina Elena è la nipote dei miei genitori e dei miei nonni. Quindi Elena è la nipote dei miei genitori e dei miei nonni. Io sono il nipote dei miei zii e dei miei nonni. Tutti insieme siamo parenti. Conoscevi queste parole? Fammi sapere!